Ciao a tutti, oggi andremo a vedere come comandare due notebook in questo caso con il mouse e la tastiera di un notebook quindi potremo saltare da un notebook all'altro senza dover togliere le mani dalla macchina che stiamo utilizzando il programma che utilizzeremo si chiama Synergy ed è un programma che è disponibile per Mac, Linux e Windows lo potete trovare su questo sito web oppure come nel nostro caso che abbiamo Debian Linux presente direttamente nel repository per lanciarlo, cioè per installarlo, basterà loggarsi come superutente e dare il comando che vedete noi per comandare l'abbiamo già installato e quindi adesso lo andiamo a lanciare lo lancieremo con l'interfaccia grafica che si chiama QuickSynergy QuickSynergy è una GUI, un'interfaccia grafica per comandare Synergy che altrimenti andrebbe configurato totalmente da riga di comando la macchina Lenovo, in questo caso il ThinkPad, verrà usato come server, cioè utilizzeremo la sua tastiera e il suo mouse per comandare anche il Dell sul Dell sarà sufficiente lanciare QuickSynergy e configurarlo come client, cioè dandogli nella casella del server l'IP della macchina Lenovo e nella casella ScreenName il nome che vogliamo attribuire a questa macchina eseguiamo il programma sulla macchina server, in questo caso il ThinkPad, basterà indicare nella casellina relativa al lato del desktop dove vogliamo che il mouse esca per comandare l'altro computer il nome della macchina client e anche in questo caso basterà lanciare il programma una volta configurato in questo modo le due macchine vediamo come con questo mouse uscendo dal lato dello schermo possiamo comandare il nostro Dell idem per la tastiera con la tastiera possiamo andare a comandare tranquillamente da una macchina l'altra macchina se ad esempio lanciamo un browser ecco che possiamo andare tranquillamente a navigare da una macchina sull'altra questo programma è molto comodo quando nel nostro caso ad esempio dobbiamo sviluppare siti web e controllare diciamo la compatibilità e la resa su vari browser e su varie risoluzioni in questo caso possiamo con un solo computer comandare quattro macchine collegate con synergy e senza dover ogni volta togliere le mani da una macchina e andare sull'altra possiamo comandarle e controllare la resa dei nostri siti web grazie per aver visto il video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale grazie a tutti